Manolo Di Pasquale, di elezioni ne ha vissute tante. In cosa differisce questa che sta portando verso il voto per le europee? Intanto diciamo che il voto per le europee è un voto molto importante, in quanto questa tornata elettorale, che si saranno nelle giornate dell'8 e del 9 giugno, è uno spartiacque tra coloro che vogliono un'Europa più forte, solidale, che guardi anche verso la pace, ma che abbia più politica, più attività politica, e chi invece vuole più nazioni e meno Europa, ed è le famiglie conservatrici in cui ritroviamo il nostro centrodestra italiano. Riteniamo che invece l'Europa debba aumentare le proprie competenze, per cui è un progetto del PD che io condivido pienamente, per il quale mi sento di combattere e portarlo avanti per tutto il meridione. E la circoscrizione, come sappiamo, è quella meridionale. In Abruzzo, come famiglia progressista, abbiamo la possibilità di eleggere un erodeputato, perché ne abbiamo la forza e i numeri, basta solamente scrivere la preferenza, cioè scrivere il nome di Pasquale accanto al logo del Partito Democratico. Persone non hanno ben capreso quanto è importante l'Europa, cioè che quello che si fa in Unione Europea cade direttamente su ogni cittadino, a difesa non solo di uno sviluppo di un'economia solidale, anche, diciamo, sostenibile, ma anche la difesa dei diritti, per cui sentono lontano il voto europeo, e quindi questo astensionismo contro il quale dobbiamo assolutamente combattere. Le persone devono andare a votare ed esprimere consapevolmente il voto. Cosa può portare un abruzzese in una terramana e in Europa? Quali valori vuole portare del Partito Democratico? Intanto l'abruzzese è testarda, quindi sicuramente combatterà per quelle che sono, diciamo, le problematiche più europee, ma anche poi attenzionare con un occhio di riguardo al nostro territorio. È importante andare a votare, ricordiamolo. E andare a votare è molto importante, facciamo scegliere gli altri, anche perché dobbiamo sempre ricordare che noi abbiamo tanti diritti e tante libertà, ma come le abbiamo conquistate le possiamo perdere, quindi vanno tutelate con le forze che tutelano.